Una delle figlie, Acacallide, è una delle figlie di Minosse, amata da Ermes e da Apollo. Acacallide stava per avere il terzo figlio Mileto, temette la collera del padre e fuggì dal palazzo per cercare asile o nei boschi, dove partorì il piccolo Mileto. Non potendo allevarlo, abbandonò il bambino ai piedi di un albero. Ma per ordine di Apollo, le lupe della foresta lo nutrirono con loro latte, fino a che alcuni pastori non lo trovarono, lo raccolsero e lo allevarono. E' come la lupa che allatta Romolo e Remo? Commento. Sì, perché le leggende più recenti copiano le più antiche, come è avvenuto per le religioni. Il resto è un chiacchiericcio della mente. Il resto è un chiacchiericcio della mente.